a tale quale con come si cambia fiorella mannoia un pomeriggio della vita ad aspettare che qualcosa voli indovinare il viso di qualcuno che ti passa accanto mentre ho già cambiato un uomo un'altra volta come si cambia per non morire come si cambia per ricominciare con gli occhi verdi e brillantina sei tu duemila certo che verrà acida la pioggia sopra le mie spalle nude e tempo un taxi nella notte avere freddo e non sapere dove sopra un lato di bottiglie notte strafazzarsi il cuore e giocare e innamorarsi come prima come si cambia per non morire come si cambia per amore come si cambia per non sofrire come si cambia per ricominciare sentire il soffio della vita su questo letto che fra poco ora toccarti il cuore con le dita e non aver paura e capire che domani è un altro giorno come si cambia per non morire come si cambia per amore 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 Molti convinti, molti convinti. Loretta! Brava, brava, somigliante. Stessa postura davanti al microfono. Quel tu gestico. Pubblico entusiasta. Sì, beh, hanno ragione. Ha fatto un lavoro meraviglioso. Forse Fiorella ha la voce leggermente più scura di te nelle note alte. Non so nemmeno se la tua tonalità era la sua o cose del genere. La stessa? La stessa, mi conferma? La stessa, ecco. Perché lei ha la voce un po' più chiara, Fiorella è più chiusa, diciamo. Però, onestamente, il vibrato, tutto, meraviglioso. Brava, Sandra. Vincenzo, la somiglianza dal punto di vista visivo era proprio moltissima. Se dallo schermo sembravi proprio Fiorella Mannoia. E anche io il canto ho trovato... Secondo me, invece, quando è salita, la voce è sembrata proprio identica a quella di Fiorella Mannoia. All'inizio mi sembrava... All'inizio mi è ricordata un po' più scelta. Abbiamo bilanciato. Abbiamo bilanciato. Allora era proprio tale quale. Abbiamo fatto parte. Sono d'accordo anch'io che magari Fiorella è un pochino più scura. Scura? Come... A proposito di scuro, volevo dire una cosa. Pieraccioni noi qui l'abbiamo invitato stasera anche perché vorremmo festeggiare insieme a te il Black Friday che... Mi mancava, guarda. Mi mancava. Cos'applaudite? Cos'applaudite? Si diceva, si parla di tutto questo venerdì nero, questo venerdì nero, io e 13 puntate c'ho il venerdì nero. Così che... A me quando è arrivato neanche l'ho sentito. Va bene. Comunque. Comunque. Mi sembra che abbia... Io la conosco molto bene, Fiorella seguo tantissimo nei concerti live, i movimenti, l'interpretazione, assolutamente. Poi è chiaro, insomma, però è sempre più brava lei nel calarsi nei panni di altri. Molto bene, sentiamo il nostro quarto giudice di questa sera. Son rose, son rose? Si, son rose. C'è tra l'altro questa canzone, c'è proprio nel mio film che esce il 29, sembra fatta apposta. È fatta apposta perché non è vero ma è per ammentare che il 29 esce il film. Guarda, io credo che la sua sia stata, nella sua totale perfezione, un'esibizione quasi staminica. Staminica. Non fare battute. No, è che mi sono inventato, siccome io vedo sempre la trasmissione, avete finito proprio gli aggettivi, io me li invento stasera. Ho capito, va bene. E questa è una staminica che se uno non avesse la terza media come te saprebbe che vuol dire più della perfezione. Più della perfezione, vai, tale e quale allora. E però, nella classifica vedremo poi, come dire, se son rose fioriranno. Fioriranno. Accomodati.